allora breve opinione su pedala di frankie high energy è una canzone un po più hip hop in confronto alla precedente un uomo è vivo sinceramente più più accattivante un po più coinvolgente e un po è un po più frankie high energy nemziana per così dire meno sicuramente di più in confronto a quell'altra che sinceramente non mi era non mi era piaciuta troppo 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 poppetosa ecco sotto questo punto di vista ora vediamo vediamo un po sinceramente la presenza tutta di frankie high energy non mi ha fatto tutta la sfera o in qualcosina di più nel complesso comunque voi ditemi che cosa ne pensate come al solito in un commento qui sotto e noi ci vediamo appunto la prossima canzone di sarre